Siamo alla nuova Fiera di Roma, Paviglione Nord, Romics 2014, sessione autunnale dal 2 al 5 ottobre 2014. Siamo giornata nuvolosa, non sta piovendo, forse pioverà, i ragazzi dei cosplay e non solo, anche i visitatori stanno per cominciare a entrare, anche noi stiamo per entrare e farvi un reportage più completo possibile di quello che sono i cosplay e tutti gli avvenimenti che accadranno qui a Romics. Quindi a più tardi, ciao a tutti.